Ben ritrovati per una nuova puntata di Coldiretti Flash. Oggi ci occuperemo con un'intervista all'assessore regionale agricoltura Giorgio Ferrero del nuovo piano di sviluppo rurale, ovvero recentemente è stato approvato e mandato dalla Regione Piemonte all'Unione Europea, la Commissione Europea e sta per essere esaminato. Vediamo insieme con l'assessore Ferrero i contenuti. Intanto abbiamo lavorato molto nel mese di fine giugno, luglio, anche inizio agosto con le organizzazioni agricole, abbiamo lavorato col partenariato tutto, gli uffici della Regione che hanno lavorato anche ad agosto per questo tipo di programmazione, manderanno la bozza che è frutto dei lavori di partenariato di queste settimane, la manderanno in giunta e se viene approvata il giorno dopo la spediamo a Bruxelles. Gli assi portanti sono quelli anche indicati nel lavoro fatto prima, cioè di capire quali sono i punti di forza, i punti di debolezza del nostro territorio e delle nostre imprese. Diciamo storicamente una grande attenzione all'agroambiente, cioè a partecipare a disciplinare di qualità, di lotta integrata e anche sul biologico di produzione, su questo abbiamo delle cifre importanti, oltre intorno ai 240 milioni di euro, poi abbiamo quasi 200 milioni di euro per gli investimenti nelle aziende, cioè per migliorare la competitività delle imprese agricole, associate, singole, e soprattutto stiamo molto attenti anche ai territori, cioè noi vinceremo la sfida di competitività se la vincono tutti i territori, non deve rimanere indietro nessuno, un occhio particolare alla montagna, ad alcune tipologie della collina che abbiamo, perché è fondamentale che tutti abbiano uno sviluppo coeso, perché così funziona. Gli aiuti dell'Unione Europea dopo l'embargo russo per i prodotti alimentari arrivano in ritardo e misura non sufficiente, solo sulla frutta al danno stimato di 60 milioni di euro. Il servizio. I 125 milioni stanziati dalla Commissione per l'Unione Europea, a seguito del blocco delle importazioni in Russia di alcune categorie di prodotti alimentari, non sono sufficienti a fronte dei danni diretti e indiretti che si stanno verificando. I vertici di Coldiretti Piemonte e in particolare Antonio De Concilio, direttore della Federazione Piemontese, rimarca che per quanto concerne il Piemonte, l'embargo della Russia avrà una forte incidenza, soprattutto per il settore frutticolo, di cui il Piemonte è esportatore. Da una prima stima dei tecnici di Coldiretti Piemonte, il comparto frutticolo piemontese vede compromesso quest'anno un fatturato che varia tra i 55 e i 60 milioni di euro. Complessivamente si stima che solo per l'Italia l'embargo riguardi spedizioni di prodotti agroalimentari per un totale di circa 200 milioni di euro all'anno, ed in particolare l'export di ortofrutta per un importo di 72 milioni di euro nel 2013, le carni per 61 milioni di euro, latte, formaggi e derivati per 45 milioni di euro. Pesche e nettarine sono oggetto di un apposito provvedimento dell'Unione Europea, provvedimento richiesto in modo accorato dal territorio e dai produttori in particolare. Purtroppo il quadro finanziario è limitato e Coldiretti chiede che venga gestito nell'interesse esclusivo degli agricoltori, il servizio. Le misure d'emergenza a sostegno di pesche e nettarine adottate dall'Unione Europea corrispondono ad un totale di 32,7 milioni di euro in tutta Europa. Secondo il regolamento dell'Unione Europea, 29,7 milioni serviranno a finanziare i ritiri, mentre 3 milioni andranno alla promozione. L'Italia, con aiuti fino a 1,288 milioni, è il principale beneficiario dei fondi. La decisione prevede di aumentare dal 5 al 10% la quantità massimale di produzione delle organizzazioni produttrici, che può essere ritirata dal mercato per la distribuzione gratuita, fissandola a un prezzo di 269 euro a tonnellata per un totale stimato di 22,1 milioni di euro di aiuti UE. Per i produttori che non sono membri di organizzazioni, invece, il contributo dell'Unione Europea per i ritiri è fissato al 50% di quello delle organizzazioni di produttori, per una somma stimata di 7,6 milioni. Inoltre, il regolamento prevede ulteriori 3 milioni per le attività di promozione per le organizzazioni di produttori cofinanziate al 50%. Scade il 10 settembre il termine per presentare l'annuale dichiarazione delle giacenze dei prodotti vinicoli. Sono tenute a questo adempimento tutte le aziende che alla mezzanotte del 31 luglio 2014 detenevano presso le loro cantine, vini o altri prodotti vinicoli, sia allo stato sfuso che imbottigliato. Per presentare questa dichiarazione, gli interessati possono rivolgersi a Coldiretti. Coldiretti Flash finisce qui, vi diamo appuntamento alla prossima domenica. E vi ricordiamo anche che questa edizione può essere rivista sul sito www.piemonte.coldiretti.it